Cristina, presidente del gruppo giovane, leader di successo tra i suoi giovani imprenditori. Questa tua presidenza, che tipo di strategie di sviluppo hai pensato per i tuoi giovani imprenditori? Ovviamente di sviluppare le capacità di ognuno di noi di essere leader di se stessi e nell'ambito della propria professione ma anche nell'ambito della propria famiglia e del gruppo che ci circonda. Questo si può fare unicamente lavorando tantissimo, facendo tanto lavoro su se stessi e facendolo con dei coach che siano dei coach di eccellenza. A proposito di coach, perché hai voluto questa esperienza formativa che parte proprio con questo titolo, strategie di coaching per il successo personale e professionale? Perché ognuno di noi ha, secondo me, dei talenti e spesso però non abbiamo la capacità, anche soltanto per mancanza di allenamento, di poterli sviluppare e poterli far ricrescere. E quindi avere qualcuno che ti spiega e ti insegna come allenare queste parti di te è fondamentale. Ieri abbiamo avuto modo di parlare ancora una volta di un problema annoso che riguarda proprio il conflitto generazionale. Cosa mi dici a questo proposito? Che è un problema annoso ancora adesso per tanti giovani imprenditori, ma che in realtà il conflitto generazionale può essere tra genitori e figli, ma può essere tra soci, può essere tra partner. E quindi in realtà è un problema molto più diffuso anche da chi pensa di non avercelo internamente. E rispetto al tema dell'eccellenza, cosa ci dici? Come lo interpreti? Come l'hai codificato per te e per la tua azienda? Essere un esempio. Quindi se io voglio che la mia azienda sia leader, così come è la mia visione aziendale, ha bisogno di un leader eccellente, quindi mi devo sicuramente, ci dobbiamo sicuramente impegnare per esserlo e dobbiamo avere dei collaboratori che siano altrettanto eccellenti. Oggi abbiamo parlato di numero uno e di essere comunque capaci di oggi, attualmente in attesa di prendere la governance dell'azienda, di essere i numeri due. Cosa mi dici a questo proposito? Che in questo senso effettivamente non l'avevo mai interpretato in questo modo. Penso che sia un tema veramente interessante, una visione diversa, ma che penso di poter fare mia. E che proponimenti tu hai personali dopo questa esperienza formativa? Che continuerà, ma dopo queste prime due giornate? Intanto ho già iniziato da subito a cercare di mettere in atto le strategie che stiamo condividendo in aula. Neanche da domani, ma da subito quando torno a casa incomincerò a fare tutta una serie di lavori appunto su me stessa, ma soprattutto da lunedì quando rientrerò in azienda cercherò di gestire le cose su cui prima avevo delle difficoltà in maniera sicuramente intanto più positiva, con l'obiettivo di capire fin da subito, quindi visualizzare come poter ottenere il successo e di ottenerlo soprattutto. Che messaggio vuoi lasciare ai giovani? Che vogliono diventare capitani coraggiosi come te e come tutti quelli che oggi sono in aula? Io credo che per diventare capitani coraggiosi ci debba essere sicuramente il talento, ma appunto il talento è nato in ognuno di noi, nelle proprie peculiarità. Bisogna appunto diventare persone eccellenti, bisogna essere coraggiosi, bisogna prendere il rischio e le conseguenze delle proprie decisioni e delle proprie azioni, ma per fare tutto questo ci vuole veramente tanto impegno quotidiano settimanale per lavorare su se stessi, quindi di ricavarsi anche un po' di tempo non soltanto unicamente dedicato al proprio progetto, ma soprattutto a come far arrivare al successo il proprio progetto partendo da se stessi. Grazie. Grazie a te.